bentornati sul canale bentornati sul canale serata di parole serata di parole di beppe marotta il grangala del calcio parole questa volta non non politichese potremmo dire o meglio marottese che che lascia lascia intendere a chi vuole intendere e nel frattempo è finita la giornata di sera con gli ultimi due posticipi roma batte sampdoria 1 a 0 con un rigore di pellegrini 1 a 1 tra lecce e fiorentina fiorentina che sarà la prossima avversaria dell'inter ci torneremo chiaramente ci torneremo su questa giornata di campionato ma l'urgenza è quella di andare un po a commentare le parole di marotta perché come dicevo non sono state parole superficiali a partire dal campo diciamo ci sono tre tre ambiti tre ambiti in particolare che hanno colpito la mia attenzione tre capitoli il campo il rinnovo di screener e la situazione societaria per quanto riguarda il campo c'è stata una conferma implicita da parte della di sport nerazzurro sulla sulla nuova coesione trovata dal dal gruppo da in zaghi e dal gruppo su in zaghi chiaramente marotta ha confermato ancora una volta la linea societaria quindi in zaghi non è mai stato in bilico secondo quanto ha riferito appunto l'amministratore delegato si è sempre avuta piena fiducia nelle capacità di in zaghi ma sappiamo bene che queste sono dichiarazioni che che valgono ma fino a un certo punto perché se la situazione fosse continuata ad essere quella inizio stagione cioè una vittoria una sconfitta è una sconfitta anche per il buon in zaghi la vita sarebbe stata breve sulla panchina dell'inter e però la rotta è stata invertita e come ricorda marotta è stata invertita grazie alla nuova coesione trovata dal dal gruppo a suo parere c'era c'è stato un avvio ad handicap senza particolari motivi ma de facto è stato un avvio con penalità per l'inter che adesso è costretto a recuperare il terreno non una situazione in realtà troppo dissimile per quanto riguarda il campionato da quella passata stavolta diciamo rispetto all'anno scorso il l'innesco è arrivato dalla dall'europa dalla champions league nel momento più più duro e l'inter si è ricompattata nel doppio confronto col barcellona nel frattempo ha battuto anche sassuolo e ieri la serenitana quindi è un inter chiaramente adesso si può dire ritrovata prima che nel gioco nell'animo nello spirito e questo forse ancora più importante perché quando c'è l'anima poi ci sono i risultati e poi viene anche il gioco perché già ieri si è visto qualcosa di meglio rispetto per esempio a reggio emilia al di là dell'avversario ma si è vista già una testa un po più sgombra una gamba soprattutto che andava di più idee messe in campo e come detto merito anche a inzaghi l'altro argomento l'altro argomento trattato è stato quello del rinnovo di screener chiaramente domanda sul mercato ovvia risposta ovvia ma che anche qui lascia intravedere tra le righe un indirizzo marotta ha parlato chiaramente di volontà del club di trattenere minas screener e questo ci pare evidente di rinnovarli il contratto deduzione logica di aumentare di aumentare l'offerta per il difensore nerazzurro quindi di prolungare e aumentare chiaramente l'ingaggio rispetto a quello attuale abbiamo l'abbiamo detto lo sappiamo no il tetto massimo è quello dei vari bar a esclusione di lucavo che è una situazione particolare no lo sapete il tetto massimo è quello dei vari barella lautaro brosovi cd6 barra 6,5 milioni netti a stagione più o meno con bonus no siamo lì più di un tot l'inter non può non può andare e per questo marotta lo sa chiaramente per questo marotta appunto dice molto dipenderà dalla volontà di screener che però che però ha già manifestato a più riprese anche pubblicamente la il desiderio di restare a milano e vestire la maglia dell'inter è un po un una melina quella di marotta un rilanciare la palla nella metà campo avversaria in questo caso nella metà campo di screener e mai anche la verità perché le carte ormai sono chiare sono sul tavolo l'inter più di un tot no quello che abbiamo detto non può andare quindi sarà screener a decidere se rinnovare si parla appunto si è parlato anche ma rotta l'ha confermato di un incontro nelle prossime settimane e quindi si aspetta questo questo incontro poi senza alludere nessuno rinnovare non vuol dire automaticamente restare all'inter anche il prossimo anno e come vi come spiegato già più riprese non penso che screener lasci l'inter a gennaio secondo me è probabile rinnovo ma rinnovo non esclude poi un'eventuale partenza in estate quindi come sempre detto il mercato lo fa l'offerta e nel nell'inter di oggi come in tantissime altre squadre soprattutto in italia quasi tutte non ci sono veramente incendibili alla giusta offerta parte chiunque forse solo siti ma nemmeno pari san germain può permettersi di dire io blindo e tengo torto collo giocatore x giocatore y per gli altri vale tutti quanti lo stesso il discorso più che altro si sposta dopo su quanto si vale a reinvestire di quanto è incassato ecco è quella un'altra e quella un'altra verità ma è un altro capitolo ultimo file aperto questa sera con le parole di marotta riguarda la società proprio oggi sono filtrate nuove notizie non ultima dal financial times mi sembra il financial times non vorrei dire una castroneria che parlava di inter in vendita ma ormai a quanto sembra è il segreto di pulcinella per quanto ne so io l'inter ufficialmente ufficiosamente è in vendita non da adesso non da tre mesi non da cinque mesi non da un anno ma anche di più almeno da due tre anni con l'offerta giusta su ning avrebbe lasciato l'inter ma chi mi segue lo sa questo è quello che so io l'ho sempre raccontato quindi la novità non è questa però nelle parole di marotta si scorge una portura non tanto banale anzi è quasi un saluto e non è la prima volta che marotta utilizza questi termini termini come dobbiamo ringraziare la famiglia jung per l'impegno profuso nell'inter sono situazioni che riguardano sfere al di sopra di me dice marotta quindi non smentisce e quindi tra le righe si capisce bene che qualcosa in pentola stia bollendo poi la gradazione dell'acqua non lo sappiamo però è evidente insomma che i discorsi potrebbero anche essere avanzati potrebbe potrebbe essere veramente di tutto però quando marotta non smentisce e per due tre quattro cinque volte in momenti diversi nelle ultime settimane parla di situazioni al di sopra della mia testa e di ringraziamenti verso su ning è veramente quasi un saluto poi le tempistiche le vedremo però queste voci che si fanno sempre più ricorrenti non chiaramente non te pongono in favore di una permanenza di suning a milano ma anche qui non c'è una grande novità basta unire i puntini non servono non serve nemmeno avere troppe notizie poi per quelle per quello che che vi ho detto io nel corso di questi mesi sapete con un miliardo un miliardo e due la famiglia giang avrebbe già detto ciao ciao prima bisi partner se poi ad altro fondo e così via non sono mai arrivate a quelle cifre loro non potevano evidentemente rimetterci legittimamente ma non è mai stata una chiusura totale non è mai stato un contratto a vita alla giusta offerta anche qui come il calciomercato suning venderebbe l'inter poi bisogna capire dove si va a parare perché non è detto che chi arriva è meglio di suning bisogna anche lì bisogna anche lì stare a valutare chiaro che però non si può continuare a gestire troppo a lungo una società come l'inter come fatto finora che non vuol dire accusare qualcuno vuol dire semplicemente fare cronaca e l'inter non sta non sta investendo ma sta sopravvivendo si sta ricorrendo per esempio al prestito di octri per dare aria e dare respiro alle casse societarie un passaggio del turno in champions tra i gironi e gli ottavi viene festeggiato quasi più per gli incassi tra botteghino commercial e premio uefa che non per risultato di campo e ma non è l'inter questa no non è non sarebbe neanche non è giusto chiamarlo correttamente perché non rispetterebbe la storia del dell'inter che con tutto il rispetto appunto non è un atalanta non è un faienord non è un deportivo la corugna e quindi deve essere gestito per aspirare massimi obiettivi senza assilli ogni due tre mesi questo penso che come l'ho capito io l'avranno capito anche su lingma non credo neanche siano contenti loro a dover gestire un club con le mani legate devono andare a dama alcune situazioni e penso che poi ripeto anche leggendo tra le righe le parole di marotta mi pare evidente che la situazione sia incanalata verso l'addio adesso le tempistiche sono tutte da sono tutte da decifrare sono situazioni delicate poi peraltro trapella poco nulla perché sapete meglio di me insomma le situazioni finanziarie quando ci sono queste trattative meno notizie filtrano meglio è per per chi è protagonista della trattativa noi ci rivediamo domani per analizzare appunto questo weekend di campionato e proiettarci questa settimana diciamo singolare senza partite analizzando un po quelle che possono essere le prospettive dell'inter verso poi il rush finale che condurrà alla sosta mondiale un saluto